In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò e sarò loro Signore per sempre, con queste parole di fiducia che si apre la liturgia oggi, la liturgia che ci consegna un Vangelo breve ma molto significativo, Luca capitolo 9, versetti 7 e 9. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti, ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose e cercava di vederlo. Gesù ormai è diventato famoso a un gruppo dei dodici che lo seguono, a un gruppo di discepoli, a un gruppo di donne che sono sempre con lui, quando arriva nei villaggi la folla si raduna perché hanno sentito dire dei miracoli che ha compiuto, sono colpiti dal suo insegnamento. tra queste persone che lo seguono ci sono anche persone importanti, c'è Giovanna, la moglie di Cuzza che era l'amministratore di Erode e oggi ci viene descritta la reazione di un presente del tetrarca Erode Antipa. Erode Antipa non era chiamato re ma tetrarca perché regnava su una parte di Israele, non su tutto Israele, regnava sul nord, sulla Galilea, la zona dove Gesù ha compiuto gran parte della sua missione. Il re Erode Antipa sente anche lui parlare di Gesù, sente anche lui che ha compiuto delle guarigioni, sente che ha seguito che molte persone lo considerano un grande uomo e vengono qui riportate per la prima volta, sanno riportate anche in un secondo momento, le opinioni delle persone del popolo di Israele nei riguardi di Gesù. Vengono riportate tre opinioni che circolavano su Gesù e che Erode sente. La prima parlava di Giovanni il Battista risorto, Gesù è Giovanni Battista risorto, sappiamo infatti che Gesù aveva cominciato la sua attività proprio quando Giovanni Battista era stato messo in carcere e quindi la gente dopo essere stata colpita dalla figura molto forte di Giovanni Battista trasferisce il potere, il fascino di Giovanni Battista a Gesù. Sapeva che era stato ucciso proprio da Erode Antipa e quindi pensavano che la forza di Gesù derivasse dall'essere Giovanni Battista risorto. Altri invece si rifacevano all'insegnamento degli scrivi che basandosi sull'ultimo libro della Bibbia, almeno nella disposizione attuale, quella del profeta Malachia diceva ecco invierò il profeta Elia a preparare la strada, a preparare l'arrivo del Messia. C'era questa attesa prima che arrivi il Messia ritornerà Elia il grande profeta e lo mostrerà lui alla gente. Poi altri dicevano invece semplicemente è un profeta. Tutti dunque riconoscono la forza di Gesù e mettono in relazione la forza di Gesù con il legame con Dio, questo è tipico del profeta. Sappiamo noi che leggiamo questo testo che il titolo profeta sarà importante ma non dice tutto ancora del mistero di Gesù. Scopriremo che Gesù è il figlio, non solo l'inviato che parla a nome di Dio. Ecco queste sono le opinioni di cui Erode sente parlare. Qual è la sua reazione? Beh innanzitutto esclude che sia Giovanni perché dice io l'ho fatto decapitare. Erode Antipa è un incredulo, non pensa che ci possa essere un ritorno alla vita e quindi lascia aperta la domanda ma allora chi è costui? E il Vangelo termina con queste parole. cercava di vederlo, voleva vederlo. Noi sappiamo che questo desiderio di vedere Gesù si realizzerà quando durante la passione Pilato gli manderà Gesù e Erode sarà molto contento di vederlo. Perché? Perché sperava di vedere qualche miracolo, sperava di vedere qualcosa di prodigioso. Invece Gesù non dirà una parola, non farà niente. Allora arrabbiato Erode lo rimanderà da Pilato vestito con una veste sontuosa per burla, per prenderlo in giro. Questa notizia della volontà di vedere Gesù da parte di Erode che è colpito dalla figura di Gesù che cosa ci dice? Ci dice che non basta desiderare di conoscere Gesù per essere salvi. Erode di fatto è un potente che non è toccato dall'opera salvifica di Gesù. Cercare di vedere Gesù è inutile. E perché è inutile? Possiamo dirlo per due motivi e sono due motivi che aiutano la nostra preghiera. La prima ragione viene dalla notizia che questo testo dà. Quando si pensa che Gesù sia Giovanni Battista dice no, Giovanni Battista l'ho decapitato io, così dice Erode. Ecco, Erode è il potente che non vuole ascoltare. Il profeta che mette a nudo la sua debolezza, che mette a nudo il suo peccato. Battista lo rimproverava di aver sposato la moglie di suo fratello, per questo lo uccide. Il potente che non vuole essere scoperto nella sua debolezza e che reagisce con violenza, chi gli fa notare la sua debolezza. Ecco, chi è potente, ed ecco l'altra ragione della ricerca inutile da parte di Erode di vedere Gesù, chi crede di non aver bisogno di Dio, di avere in mano la propria vita, costui non vedrà Gesù. La vera ricerca di Gesù parte prima di tutto dall'ascolto interiore dello spirito che ci aiuta a riconoscere la nostra debolezza, la nostra malattia, la nostra ferita. E da questa ferita riconosciuta pianta, cioè scusate, una ferita su cui si piange, si prova dolore, su questa ferita si apre la possibilità di fare l'esperienza vera di incontro con il Signore. Allora cercare di vedere Gesù diventa il desiderio di vedere il Salvatore. Oggi chiediamo al Signore di non essere persone che sono soltanto curiose del Vangelo, ma cerchiamo di essere persone che sentono che Gesù è il Medico, è colui che non ha paura della nostra miseria ma vuole che con sincerità gliela poniamo davanti. Il Signore ci aiuta a non essere come Erode, spettatori esterni che davanti alla potenza salvifica di Gesù si limitano a essere curiosi ma non vogliono far diventare quella parola una medicina vera per la propria vita.